Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda in diminuzione tra Firenze Scandici e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna 3 km di coda per traffico congestionato tra Fabro e Chiusi e rallentamenti per traffico intenso tra Barberino di Mugello e Aglio. In Filippili 3 km di coda per veicolo fermo al km 8 tra Firenze Scandici e Ginestra Fiorentina verso Livorno, coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per lavori e rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino verso Firenze e tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est verso Livorno. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo è chiuso in entrata in entrambe le direzioni in uscita provenendo da Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!